Caro Signor Presidente, Signore e Signori, è stato trovato qualche giorno fa in questo edificio un forum con la designazione del futuro vertice, al posto della Russia. Un'idea del Segretario Generale. Il forum si è riunito con benevolenza, registrato a causa della nostra crisi. L'organizzazione si sta rafforzando e deve continuare a farlo. Siamo sinceramente coinvolti nei preparativi per questo vertice e siamo aperti, senza particolari illusioni, a quanto accaduto nella storia moderna. L'ONU ha molti eventi ambiziosi. Le spiegazioni sono terminate poco dopo e sono state nuovamente dimenticate, come nel caso del vertice del millennio nel 2000. Questo compito proclama i popoli a liberarsi dal flagello della guerra, marciato più di due anni dopo dagli Stati Uniti come leader della Coalizione dei Volenterosi, senza mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in Iraq, un paese ancora afflitto dalle conseguenze devastanti di questa avventura. Il vertice sull'ambiente del 2005 ha dichiarato un impegno per creare una pace giusta, in coerenza con i principi e la Carta dell'ONU. Questo obbligo ha ostacolato gli Stati Uniti e i loro alleati, che non erano affatto interessati. Ricordiamo l'aggressione armata del capo di Stato georgiano Saakashvili nel 2008 contro la popolazione dell'Ossetia Meridionale e, tre anni dopo, la Nato ha organizzato un intervento militare in Libia, distruggendo la statualità del paese e minando la stabilità dei paesi vicini. Nel 2015, il vertice ONU per la sostenibilità ha sviluppato piani grandiosi per la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, ma alla fine si sono rivelati promesse vuote. I paesi occidentali non erano pronti ad abbandonare le loro pratiche neocoloniali, mentre la ricchezza globale veniva sfruttata a loro favore. Le statistiche sull'adempimento delle promesse di sviluppo del sud del mondo e il trasferimento di tecnologie sostenibili sono rimaste deludenti. Il segretario generale Antonio Guterres ha lanciato un'iniziativa sotto lo slogan di Riallineamento globale. È uno slogan attraente. Chi può opporsi? Ma di che tipo di collaborazione globale stiamo parlando, se in Occidente si calpestano i valori inviolabili? Ci viene detto che tutti hanno accesso ai benefici della moderna civiltà, mentre la proprietà e la libertà di parola sono sempre più minacciate. La concorrenza nei mercati è chiara, ma il segretario generale parla di collaborazione globale in un momento in cui i paesi occidentali, davvero, sanzionano la guerra contro una buona metà, se non la maggioranza, degli stati. L'umanità è stata goffamente lodata, ma il modo è diventato un'arma, come nel caso dell'embargo commerciale contro Cuba, la cui rimozione è stata richiesta per oltre 60 anni. Washington blocca il normale funzionamento dell'OMC per risolvere le controversie e riformare le istituzioni di Bretton Woods, le cui strutture non riflettono più l'attuale equilibrio di potere nell'economia globale e nella finanza. Anche l'ONU è vista come uno strumento per far rispettare la sua politica. I tentativi di snaturare l'organizzazione e le attese modifiche al personale della segreteria oggi sono detenuti dai rappresentanti della minoranza occidentale. La cooperazione globale dovrebbe promuovere idee unificanti e suggerire opzioni di compromesso, piuttosto che inventare scuse per la narrativa vantaggiosa dell'Occidente. Non è troppo tardi perché le Nazioni Unite facciano qualcosa di nuovo, ma è necessario farlo non attraverso vertici e spiegazioni irrealistiche, ma riemergendo alla fiducia basata sul principio di sovranità. Finora, l'uguaglianza di tutti gli Stati è stata un obiettivo raggiunto, ma la fiducia è minata da altre questioni dell'Occidente. Formati ristretti, aggirando le Nazioni Unite, creano un controllo su questioni cruciali come l'amministrazione di Internet o la definizione del quadro giuridico per l'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale. È necessario risolvere finalmente queste preoccupazioni riguardo al futuro dell'intera umanità, basandosi su una piattaforma universale senza discriminazioni e senza lottare per una posizione unilaterale. I benefici devono essere condivisi con tutti. Le parole sono necessarie e devono essere giuste, con la partecipazione di tutti i membri delle Nazioni Unite a negoziare, non in un futuro patto preparato senza un ciclo di negoziati in sessione plenaria, cui erano presenti tutti i paesi. Invece, i lavori sono stati eseguiti sotto il controllo di manipolatori occidentali. Il risultato è che il parco è stato formato prima ancora che nascesse, già nel Pantheon del Bello. Le spiegazioni formulate in inglese sono state ricevute, ma purtroppo il destino dei prodotti di tale vertice mondiale nella risoluzione vincolante dell'ONU è stato trascurato. Tuttavia, il Consiglio di Sicurezza non dovrebbe ignorare il sabotaggio delle decisioni sul Kosovo, sulla soluzione e sull'accordo riguardante i dati sulla Bosnia ed Erzegovina. Questo è l'esempio più scandaloso di sabotaggio in corso della risoluzione consensuale per creare uno Stato palestinese in pace e sicurezza, coesistendo con Israele. Non c'è, e non può esserci, alcuna giustificazione per gli atti terroristici commessi dagli israeliani il 7 gennaio. Tuttavia, tutti furono sospesi nell'ottobre 2023 e coloro che avevano ancora un senso di compassione erano indignati per la tragedia di ottobre, in cui si stava attuando una punizione collettiva dei palestinesi. Questo ha portato a una catastrofe umanitaria, uccidendo civili palestinesi. Le armi americane devono essere immediatamente fermate, i beni umanitari devono essere garantiti e le infrastrutture devono essere ricostruite. Soprattutto, la legge deve garantire il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione, che deve essere supportato non solo a parole, ma anche nelle azioni concrete sul terreno. Un territorio coerente e vitale deve essere creato entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale. È inaccettabile il trattamento disumano inflitto al Libano attraverso la tecnologia delle armi mortali. Questo è un grido disperato. È essenziale che gli obiettivi di questo crimine siano chiariti. Possiamo vedere molte pubblicazioni sui media, anche in Europa e negli Stati Uniti, che non possono ignorare il coinvolgimento di Washington nella preparazione dell'attacco terroristico. Testimoni affermano che gli americani negheranno sempre tutto e faranno qualsiasi cosa per coprire i fatti emersi, come hanno fatto con le prove inconfutabili del loro coinvolgimento negli attacchi terroristici, come nel caso dei gasdotti Nord Stream. Questi gasdotti rappresentano un esempio perfetto di cooperazione dell'ONU. Il segretario generale sogna attraverso di essa la distruzione della competitività europea. Per molti, l'unione nell'economia globale è stata minata a favore degli Stati Uniti e dell'Occidente, che hanno nascosto la verità sugli organizzatori di numerosi altri crimini, compresa la sanguinosa provocazione a Kiev, nel soborgo di Buccia nell'aprile 2022, e una serie di avvelenamenti di cittadini russi in Gran Bretagna e in Germania. Il segretariato delle Nazioni Unite deve intervenire in situazioni che riguardano la sicurezza globale, senza ignorare la verità. Ha il dovere, ai sensi dell'articolo 100 della Carta, di agire in modo imparziale e resistere alla tentazione di trasmettere informazioni agli Stati che invitano apertamente il mondo a fiorire in un giardino e a ignorare la giungla. Possiamo resistere alla divisione. Dobbiamo ricordare il comportamento di coloro che non lo sono, quelli del resto del mondo che chiedono il rispetto delle loro regole. L'invasione dell'Afghanistan e il soggiorno inglorioso di vent'anni della famosa coalizione sono stati accompagnati dall'emergere di Al-Qaeda che è stata una conseguenza diretta dell'aggressione contro l'Iraq. Questa aggressione ha portato all'emergere dell'Isis, scatenando la guerra in Siria e aprendo le porte al terrorismo nel Sahel e contribuendo all'immigrazione clandestina in Europa. Queste stesse regole che sono ormai routine portano ancora una volta a omicidi politici come accaduto ieri a Beirut. È estremamente allarmante osservare i tragici e inaccettabili sviluppi nel conflitto arabo-israeliano, nello Yemen, sul Mar Rosso e nel Golfo di Aden, così come in Sudan e in altri focolai problematici in Africa. Questo riflette l'innegabile realtà che, ancora una volta, si cerca di fornire sicurezza indivisibile per tutti, ma nessuno ha provato a farlo per anni. Per la Russia, questa è una verità semplice in relazione alla sicurezza europea nella mente di Washington, Londra e Bruxelles, dove si cerca di piantare nel complesso la propria esclusività e di soffrire impunità. Nonostante la Nato avesse originariamente promesso di non espandersi, nei documenti ufficiali dei vertici dell'OSCE del 1999 e del 2010, si è invece assistito a un'espansione geopolitica e militare in Europa, nel Caucaso meridionale e in Asia centrale, con la conseguente minaccia diretta alla sicurezza del nostro paese. La stessa cosa sta accadendo ora nella regione dell'Asia del Pacifico, dove l'infrastruttura della Nato si insinua e dove si stanno creando ristretti blocchi militari attorno a Cina e Russia. Questo mina l'architettura di sicurezza sotto il patrocinio dell'ASEAN. Non c'è pericolo che i tuoi amici, Atlantici e Nato, si rivolgano a te con entusiasmo per un sistema geopolitico che sta chiudendo i suoi confini. L'espansione militare in Europa è in atto, mentre la sicurezza di queste terre è fondamentale. Lo stesso progetto si osserva nella regione asiatico-tailandese, che utilizza l'infrastruttura fornita dalla Cina e dalla Russia. Allo stesso tempo, l'Occidente non solo non sostiene la cooperazione globale, ma incolpa apertamente Russia, Cina, Bielorussia, Corea del Nord e Iran, considerandoli una minaccia. Rappresentare il dominio diventa l'obiettivo. La Russia annuncia una sconfitta strategica da infliggere a Londra e Washington, simile a quanto pianificato nel maggio 1945. Gli strateghi anglosassoni, che ora danno per scontato il loro piano di ridurre la Russia con le mani del regime neonazista illegittimo a Kiev, si preparano a un'avventura suicida in Europa. Non voglio giungere a questo punto né all'inutilità e al pericolo di coinvolgersi in conflitti nucleari per combattere la Russia fino alla vittoria. Gli incantesimi dei signori occidentali di Kiev sono altrettanto inutili in assenza di alternative ai negoziati, basati su una formula di pace infame destinata al fallimento. L'Occidente non esita a dare ultimatum, esigendo l'integrità territoriale dell'Ucraina. Vorrei vedere anche i miei colleghi del Segretariato delle Nazioni Unite ricordare che non si tratta solo di integrità territoriale. I principi di uguaglianza e autodeterminazione devono essere rispettati dai popoli. Questa era la base giuridica internazionale per il processo di decolonizzazione. La questione non è ancora finita. è tanto che i francesi, gli britannici e altri ex padroni coloniali resistano e decidano nel 1970 quando l'Assemblea Generale adottò all'unanimità la dichiarazione che richiedeva il rispetto dell'integrità territoriale di tali stati e il diritto di autodeterminazione dei popoli. Sottolineo che la popolazione deve essere rappresentata da una decisione unanime dell'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo tanti anni sono necessarie discussioni difficili. Non c'è ulteriore prova che i neonazisti ucraini, sostenuti dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, abbiano portato a un sanguinoso colpo di Stato a Kiev nel febbraio 2014. Non sono stati i russi a prendere il sopravvento sulla popolazione della Crimea o del Donbass che rappresentava la nuova Russia. Anche adesso i capi di Stato e di governo occidentali non si esprimono riguardo ai diritti umani significativamente trascurati in relazione alle azioni razziste dei loro alleati a Kiev. Ad un'altra richiesta, il primo articolo della UNMAP ricorda il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutte le persone indipendentemente dall'etnia, dal sesso, dalla lingua o dalla religione. I diritti dei russi e delle persone che condividono la cultura russa sono stati sistematicamente minati a Kiev dopo il colpo di Stato. La lingua russa è stata proibita dalla legge in tutti i settori, inclusi educazione, media, arte e vita quotidiana. Recentemente è stata approvata una legge che vieta la Chiesa Ortodossa Ucraina canonica, il che rappresenta chiare violazioni dei diritti sanciti dalla UNMAP. Le minacce alla sicurezza della Russia e di tutta l'Europa provengono dal regime di Kiev e da coloro che lo trascinano nella NATO. Queste sono le principali cause della crisi attuale in Ucraina. L'operazione militare speciale da parte della Russia è volta a garantire la sicurezza e il futuro delle persone, mirando a proteggere la loro terra ancestrale. È quindi essenziale eliminare le cause che derivano da Kiev. Il regime attivo nella NATO è un vantaggio per ciò che si percepisce. Apprezziamo la sincerità e il desiderio di alcuni dei nostri partner di promuovere iniziative di mediazione, riconoscendo le loro migliori intenzioni rispetto ai tentativi infruttuosi di Zelensky. I fatti menzionati riguardo alle vere cause della situazione attuale devono essere considerati senza essere ignorati. Una pace giusta basata sulla UN-MAP non può essere raggiunta senza un piano realistico per la risoluzione del conflitto. Il presidente Putin il 14 giugno di quest'anno ha espresso ancora una volta la buona volontà della Russia dimostrando la sua disponibilità a raggiungere accordi attraverso i negoziati. Le prospettive di Kiev dopo il colpo di Stato del 2014 e il fallimento degli accordi di Minsk del 2015 così come degli accordi di Istanbul del 2022 mostrano l'arroganza e l'aggressività senza precedenti della politica occidentale nei confronti della Russia. Questa politica non si limita alle idee propagandistiche del segretario generale sulla cooperazione globale ma blocca sempre più il funzionamento dell'intero sistema di leadership globale comprese le Nazioni Unite. La responsabilità di tali scelte ricade su chi ha intrapreso un percorso pericoloso mentre l'Occidente continua a ignorare le gravi conseguenze per tutti. La maggioranza della popolazione mondiale è consapevole di come il confronto e l'egemonismo non risolveranno alcun problema globale ma inibiscono il processo di formazione di un ordine mondiale multipolare. Il rispetto dell'uguaglianza tra grandi e piccole nazioni e il valore della dignità umana sono fondamentali. i popoli hanno il diritto di determinare il proprio destino un principio che si basa sulla non interferenza negli affari interni dei più sovrani stati. Questo è un aspetto vergognoso per i membri delle Nazioni Unite provenienti dagli Stati Uniti e dai loro satelliti. Il futuro vertice è stato bloccato e il corrispondente patto è stato adottato nel discorso del presidente Putin al quarto forum eurasiatico delle donne a San Pietroburgo il 18 settembre di quest'anno. Mina Mashadi Il presidente Putin ha sottolineato l'importanza degli sforzi per uno sviluppo sostenibile e universale uguale e indivisibile. Unire la sicurezza è possibile solo affrontando i complessi problemi dell'umanità insieme. Gli interessi occidentali devono riconoscere le proprie ambizioni neocoloniali e abbandonare le pretese nel sud e nell'est del mondo dove sempre più si rivendicano diritti di partecipazione globale nei processi decisionali. L'Occidente sta diventando sempre più urgente riguardo a un modello di globalizzazione che sconvolge sistematicamente il ruolo intergovernativo. Le fusioni in Asia, Africa e America Latina si consolidano sempre di più includendo organizzazioni come quella di Shanghai, l'Unione Africana, la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi, CELAC, la Lega Araba, l'Unione Economica Eurasiatica e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, tra molte altre strutture regionali. Queste organizzazioni stabiliscono contatti sia tra loro che con i mattoni dell'Associazione Globale, offrendo opportunità di armonizzazione. Meccanismi per una collaborazione reciprocamente vantaggiosa e lo sviluppo devono essere creati al di fuori del controllo delle influenze esterne negative. I processi oggettivi devono essere svolti anche nell'ambito dell'attività del G20, che dovrà prendere in considerazione dove il G7 non riesce più a imporre il proprio ordine. È forse necessario dare uno sguardo nuovo e sfruttare le possibilità. Garantire la sicurezza all'interno delle diverse regioni significa trarre insegnamento dalle tristi esperienze con i modelli di sicurezza euro-atlantici che hanno servito l'Occidente. La Russia ha piani di espansione e ha l'iniziativa di formare un'architettura completa per una sicurezza indivisibile in Eurasia. Vorrei sottolineare che tutti i nostri stati e organizzazioni sono aperti a collaborare e a cercare soluzioni accettabili. L'interconnesso e i vantaggi competitivi dell'eurasiatico devono essere utilizzati. La conferenza a Minsk il 31 ottobre di quest'anno sarà un'opportunità per discutere questi temi. A luglio di quest'anno il Consiglio di Sicurezza dell'ONU su suggerimento della Russia ha aperto un dibattito sulla costruzione di un ordine mondiale più giusto e sostenibile. Riteniamo che sia importante continuare le discussioni avviate negli Stati Uniti e in altre piattaforme. È indubbio che una rappresentanza più forte del sud del mondo nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU sia fondamentale. Sosteniamo le candidature di Brasile e India pur essendo favorevoli alle iniziative dell'Unione Africana. Tuttavia non si può parlare di posti aggiuntivi per i paesi occidentali nel Consiglio di Sicurezza poiché sono già sovra rappresentati. Nel maggio 2025 si celebrerà l'ottantesimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale durante il quale ricorderemo decine di milioni di persone tra cui 27 milioni di cittadini dell'Unione Sovietica vittime delle politiche genocidi del Terzo Reich. Tali crimini non possono essere dimenticati e non esiste alcuna giustificazione morale per i carnefici che oggi tentano di distorcere la realtà compresi i sostenitori del nazismo in Ucraina negli Stati Baltici in Canada e altrove nel mondo. Di fronte a enormi sfide comuni è necessario uno sforzo collaborativo e non un semplice confronto per il dominio globale. La Russia sarà sempre dalla parte della verità della legge della pace e della cooperazione nell'interesse di rilanciare gli ideali dei padri fondatori. L'iniziativa del Venezuela e il gruppo di amici fondati per proteggere la non-carta e i suoi principi rimangono importanti. È essenziale che tutti siano guidati da principi e non selettivamente come se si stesse scegliendo da un menu ma in un contesto che include il principio di uguaglianza sovrana degli Stati. Se scegliamo un compenso equo per i legittimi interessi nazionali di tutti i Paesi potremo raggiungere l'obiettivo specificato nella mappa facendo in modo che l'ONU sia al centro dell'armonizzazione delle azioni delle nazioni. Grazie a tutti.